Allora, ultima lezione dedicata alla Repubblica di Platone. Ultima lezione dedicata alla Repubblica di Platone. Abbiamo visto che nella Repubblica Platone ci descrive lo Stato giusto, lo Stato ben governato, lo Stato in cui gli uomini e le donne possono vivere nella giustizia e dunque essere felici, lo Stato diviso in tre classi sociali, lo Stato in cui i filosofi governano, preconoscono il bene, dunque educano al bene, governano in vista del bene, in cui gli uomini coraggiosi difendono lo Stato, i guerrieri, e in cui i cittadini temperanti producono. Questo è il modello di Sto Platone, che vi avevo detto è uno Stato organicista, in cui il tutto è superiore alle parti. Prima c'è lo Stato, poi i cittadini. Lo Stato forma i cittadini. Ebbene, questo Stato è uno Stato giusto perché è in armonia, è in equilibrio. La giustizia è quando ognuno svolge al meglio il primo compito. Io qua devo insegnare bene. È il mio compito. Voi dovete imparare, studiare bene. Il personale ATA dovrà gestire la pulizia, l'organizzazione degli spazi bene. La DSGA dovrà più che mai occuparsi del funzionamento amministrativo e finanziario della scuola. Perché se la DSGA oggi vuole insegnare filosofia o letteratura latina senza esserne in grado e io senza esserne in grado, preparato, decido di occuparmi della gestione amministrativa e finanziaria della scuola e proprio che il giorno Bruno ne abbia un peggioramento, vada verso un declino. Poi, però è più complesso in realtà perché io potrei anche essere bravo ad amministrare e la DSGA o il DSGA potrebbe essere bravo a insegnare filosofia o letteratura. Però è importante che ognuno in quel momento svolga al meglio il proprio compito. Se tutti lo svolgono al meglio, lo Stato funziona al meglio. Almeno tendere al meglio. Tendere. Quello è l'obiettivo. È chiaro? Dunque il cuore deve fare il cuore e non il pancreas. Il pancreas deve svolgere la funzione del pancreas e non appunto dei reni. E i reni non devono fare il cervello. Perché altrimenti il tutto si inceppa. Ecco lo Stato organicista. Dentro questa descrizione dello Stato giusto, Platone ha inserito dei miti importanti. Li avete presentati? Bene, voi. Il mito della caverna. Si diventa filosofi e dunque si può diventare governanti se si esce dalle ombre, dal buio, dalla caverna. Si conosce il sole. Si vedono i fiumi, gli alberi, i mari, i monti, le stelle, la luna, il sole. Quello era il mondo delle idee. Il mondo delle idee, se è conosciuto, diventa più che mai orientante per i governanti. Filosofo è colui che conosce il bene. Se conosce il bene, governerà bene. E dunque indirizzerà lo Stato verso il bene. Se invece non conosce il bene, sarà più propenso ad essere corrotto, malvagio, pasticcione, impreciso. Bisogna uscire dalle ombre, bisogna mettere in dubbio la realtà che appare per andare verso la realtà che è il mito della caverna. È chiaro? Dall'opinione doxa all'episteme, alla scienza. Chi governa deve essere uno scienziato del bene, scienziato politico. Non deve essere un opinionista. Le opinioni, no, non si governa con le opinioni, si governa con la verità. O almeno tendendo la verità. Questo è Platone con tutto il suo titanismo. Il sapiente deve governare. È una soluzione difficile, ma al contempo facile. Perché se è difficile trovare i sapienti, è difficile mandare i sapienti al governo, però una volta che vengono mandati al governo, loro governaranno bene. Questo è un po' il gioco intellettuale e filosofico della prospettiva platonica. E ve l'ho detto, per quanto sia difficile ma semplice, per quanto sia complesso da realizzare, è al contempo una via percorribile. Lo dicevo ieri. Un buon preside, una buona preside, fa vivere in maniera migliore una scuola di un'altra. Un buon amministratore di circoscrizione che pensa al bene della circoscrizione è meglio di uno che va in circoscrizione per fare i propri affari, i propri interessi. Un buon sindaco che conosce il bene. Poi il bene di tutti non c'è, perché tutti hanno anche interessi diversi. Allora il bene di tutti vorrà dire forse fare il bene dei più, la metto lì, o fare il meno o peggio per un po' tutti, già capire poi cosa è il bene. Però chiaramente se mette il governo di Torino, di Milano, dell'Italia, della circoscrizione del quartiere, un pessimo governante, uno che fa i suoi interessi, il quartiere, la città, il paese ne risente. Chiaro? Dunque è difficile, perché si trovano gli ottimi, però è anche poi facile perché a un certo punto gli ottimi, come sono gli illuminati, guiderebbero lo Stato. E' più difficile, perché poi nello Stato, nel quartiere, ci sono diversi interessi, diversi caratteri, dunque trasformare una città in un corpo unitario, uno Stato in un corpo in un organismo, una classe in un organismo, è difficile. Stando alla visione di Platone, che ieri mi avete detto, non è proprio la vostra, perché per voi prima vengono i cittadini e poi lo Stato, prima gli studenti e poi la scuola. Platone dice no. La scuola tutta fa gli studenti, con i professori, con gli cittadini che fanno lo Stato, ma in che modo? Nello Stato, lo Stato di forma li guida e c'è prima la scuola, prima lo Stato e poi gli allievi, gli studenti e i cittadini. Questa è l'idea forte di Platone. Ti è chiaro? Tant'è che la Repubblica si chiude, l'avete apprezzato anche voi, con il mito di Err. E dunque ogni cittadino deve essere responsabile del suo destino, perché il mito di Err ci dice che nell'aldilà noi sceglieremo un'anima, vi ricordate? In base a come abbiamo vissuto. Se abbiamo vissuto nella virtù, se abbiamo vissuto conoscendo anche il bene, oppure vincendosi il bene, saranno più saggi, avremo più capacità di scelta, abbiamo avuto una vita perigliosa, magari sceglieremo una vita più tranquilla, magari abbiamo vivuto una vita di ignoranza e abbiamo però alla fine di questa vita capito che la nostra mancanza ci ha danneggiato, allora ci siamo avvicinati alla conoscenza, allora nella prossima vita sceglieremo una vita di virtù e di conoscenza. Cioè noi dobbiamo rendere questa nostra vita in terra la più bella possibile per poter essere in grado dopo di scegliere dunque l'uomo è artefice delle scelte che farà. Noi siamo le scelte che facciamo. Bene? Questo è l'impianto della Repubblica. È l'impianto della Repubblica. Qual è però la conclusione a cui giunge Platone? All'interno di questo progetto quali sono le conclusioni? Platone è ben consapevole, ma è ben consapevole, che lo stato da lui descritto non esiste in alcun luogo sulla Terra. Nunca siamo in presenza di una utopia. Le vedremo il prossimo anno, già lavorerete un po' quest'estate da leggere, utopie e distopie. Utopia, utopos, in nessun luogo. Utopos. Lo stato di Platone è utopico perché non esiste in nessun luogo. Dov'è la città di Platone? Non c'è. È un'idea che lui tratteggia, delinea, sperando che si possa realizzare, sperando che gli ottimi vadano al governo e che i cittadini obbedienti e temperanti facciano bene il loro compito. È chiaro? Le squadre sono organiciste platoniche. perché se a un certo punto l'attaccante va in difesa nessuno farà gol, a meno che decidiamo che il mento torna in difesa va davanti l'attaccante. Oppure l'attaccante in difesa quando gli altri hanno la palla e tutti occupiamo quelle parti di campo perché non è l'obiettivo io, il mio, la mia performance. L'obiettivo è la squadra. Se il portiere di colpo si mette a fare il difensore e il difensore decide di andare a centrocampo ma il centrocampista non lo sa la squadra non funziona. È così il campo di pallavolo. Anziché alzare il palleggiatore si mette ad alzare l'attaccante chi va a attaccare poi può accadere la pallavolo situazioni codificate ha alzato l'attaccante un altro attaccante si prepara ad attaccare ma vanno coordinate insieme. Ecco che la pallavolo il calcio, il rugby sono sport organicisti dove il tutto prevale sulle parti cioè il tutto è la squadra che difende che attacca la squadra che ha la palla che non ha la palla. Sa benissimo Platone però che è uno stato che funzioni così non esiste in nessun luogo dunque è uno stato utopico e allora che cos'è? È un modello ideale. Platone ha descritto un modello ideale d'altronde il teorico dell'idea è un modello ideale è un modello ideale che io metto qua e utilizzo per giudicare l'esistente. Platone è sempre molto 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 ingombrante. Immaginate voi nella vostra vita vi date dei modelli ideali modelli ideali nel battere a tennis il modello ideale di studente non ci sono modelli ideali però uno può provare a costruire perché create un modello ideale? o prendete qualcuno per come batte le punizioni per come disegna per come cucina come modello ideale per avvicinare guarda il modello ideale di cuoco è lei e lui il modello ideale di calciatore per me è lui il modello ideale di appunto pallavolista è lei il modello ideale di da davanti di padre di madre va bene e questa signora eccetera eccetera quando si assume un modello lo si assume perché lo si mette lì come metodo di giudizio allora prendetelo questo è il modello ok voi siete no non ci sono ancora sono piccolo lo metto sopra il modello dunque il modello è verso cui si tende è verso ciò cui si tende va bene dunque tendere verso un modello Platone descrive un modello che i governanti dell'epoca possano avvicinarsi nella realtà però questo modello cosa sarebbe che cosa è la repubblica la repubblica è un'aristocrazia questo stato ideale che ha descritto è un'aristocrazia perché governano i pochi sapienti aristocratici cioè il governo dei migliori è un'aristocrazia di filosofi questa è una aristocrazia filosofica dunque è probabile che Platone ami come forma di governo appunto l'aristocrazia sia il modello di governo che Platone appunto stesso preferisce l'aristocrazia l'aristocrazia ovviamente è una forma di governo ottima se ci sono gli ottimi al governo essa stessa in realtà può degenerare e Platone ci presenta le forme di degenerazione politica l'aristocrazia dei filosofi è la miglior forma di governo ma ci sono tante altre forme di governo che sono invece degenerazioni di buone forme che sono pessime forme politiche la prima degenerazione è il governo detto da Platone timocratico la timocrazia è il governo fondato non sui migliori sugli ottimi ma il governo fondato sull'onore la timocrazia è il governo di coloro che sono impossessati delle terre degli averi che cosa fanno? vogliono avere di più vogliono essere uomini ok onorati onorabili quando passano per la città la gente riconosce in queste persone il loro potere le loro ricchezze il loro ruolo il filosofo non governa perché poi quando va in giro per la città la gente dice ah è lui ma governa perché ha l'idea di giustizia e di saggezza perché è saggio sapiente e ha un'idea di giustizia e di bene invece la timocrazia è il governo di coloro che accumulano beni cariche per farsi poi ammirare per farsi ammirare vogliono comandare perché si è prestigiosi ah è la cena tra amici immaginate no tanti vostri papà non voi ne avete uno tanti papà che torna un tavolo e cominciano tutti a voler mostrare che il loro ruolo è più prestigioso va benissimo se metti queste persone al governo non funziona dice patone perché non governo per il bene della città ma per il loro prestigio personale questo scritto di migliaia di anni fa lo mettiamo oggi è uno scritto di politica attuale poi dopo uno può dire guarda Torino è amministrata da questa donna o è uomo talmente ambiziosa che le sue ambizioni hanno fatto fiorire Torino può capitare il patone dice attenzione che però governare per il prestigio l'ambizione a volte ti fa fare delle valutazioni sbagliate perché tu metti il tuo prestigio poi magari con il tuo prestigio hai portato prestigio a Torino magari tu alla ricerca del prestigio hai portato la città poi in crisi è veramente un passaggio molto bello timocrazia forma degenerata non sono i migliori ma sono quelli che governano perché ambiscono all'onore al prestigio seconda forma chiaramente di di degenerazione l'oligarchia gli oligarchi sono i pochi i ricchi i potenti l'oligarchia è fatta sul censo sono arrivato il potere i ricchi e i ricchi fanno gli interessi del popolo alcuni pensano perché essendo ricchi non penseranno più alla ricchezza dai mandiamo i più ricchi il potere o i più ricchi se lo prenderanno già e nella vita accade che i più ricchi se lo prendono perché possono pagare delle persone per prendere il potere per eliminare un avversario per pagare la campagna elettorale voi lo sapete ragazzi che le campagne elettorali sempre meno i partiti ti danno dei soldi te la devi pagare tu allora se tu sei ben accolto da un partito perché la campagna elettorale te la paghi tu non vuol dire che tutti possono entrare però io busso le porte del PD di fratelli d'Italia della Lega di 5 Stelle su queste stelle avevano un'altra idea ancora perché si è salvato la piattaforma quella era un'idea molto originale secondo me molto carina come idea poi il problema è che magari votano in pochi e decidono in pochi però era un'idea vi candidate sulla piattaforma e vi scegliamo noi militanti lasciamo per le 5 Stelle che avevano una modalità diversa andate dal PD da Forza Italia perché vi scrivete si cercano i candidati si cercano i candidati forti forti vuol dire che possono prendere dei voti è chiaro dei voti il PD a Torino non sta trovando un candidato un po' le correnti interne un po' i litigi ma un candidato forte che possa prendere dei voti dunque serve anche una persona credibile però potrebbe anche emergere uno che dice sentite io io metto questo 100.000 euro 200.000 euro per la campagna elettorale lo mettete lì gli diamo un posto nella lista questo si fa la campagna elettorale manifesti passaggi televisivi che costano passo è chiaro la democrazia ha degli anticorpi però anche in democrazia le persone più ricche per cui non parto dalla democrazia hanno più potere perché possono pagarsi la campagna elettorale un tempo quando c'era il finanziamento pubblico della campagna elettorale i partiti prendevano dei soldi dallo Stato per la campagna elettorale adesso non è più così c'è un piccolo rimborso dunque ogni partito deve chiedere dei soldi e dei contribuenti ognuno può fare le donazioni devono essere tracciabili Biden e Trump hanno dovuto consegnare un elenco di tutti i soldi che loro hanno ricevuto per la campagna elettorale e se dall'Italia va bene Matteo Saudino ha deciso di dare 5 dollari va bene a Trump o a Biden potevo farlo c'erano la camera deve risultare ma nelle scartofie ci sarà 5 euro con la posta a pay saudino e la data devono essere trasparenti un modo per vedere chi ha tirato i soldi sono tutte le leggi che vi facciamo perché il Platone l'ha capito quel problema che i soldi è un certo punto ha molto di un potere allora se noi ci accorgiamo che Trump ha tantissimi soldi da questa ditta è arrivato il governo fai l'interesse di questa ditta ma allora scusami tu ti fai l'interesse di chi ti ha pagato c'è un modo per eh ci credo che governi così Biden hai il progetto di soldi che in America è già un problema perché le big corporation danno tanti soldi ai presidenti ai candidati in modo tale e quando vanno là magari hanno un occhio di riguardo è chiaro? se tu vai al governo perché sei ricco perché vuoi più ricchezza perché metti al centro questo successo è una oligarchia fondata sul censo sulla ricchezza cioè l'uomo ricco molte volte avido va bene è quello che prende il potere è quello che ha messo la patrimonio la ricchezza il centro di tutto farà il bene dello Stato secondo Platone può farlo ma ha meno possibile di farlo di altri perché governerà poi per il suo successo governerà per il censo vi ho già spiegato che ci sono altre teorie che dicono poiché è già ricco si occuperà delle cose buone terza degenerazione la democrazia ovviamente ve l'avevamo già parlato avevo già fatto il filo rosso degli antidemocratici da Pitagora ho detto poi Platone ne sarà il massimo esponente perché la democrazia? è perché la democrazia è l'avvento dei poveri delle persone comuni ma sapete qual è un genio assoluto la motivazione perché si arriva alla democrazia che il governo peggiore di tutti perché è caos perché i poveri gli ignoranti le persone che non sanno nulla vogliono sapere vogliono contare vogliono decidere ma sapete di chi è la colpa? degli oligarchi perché l'oligarchia cioè quelli che governano facendo il proprio interesse fanno sì che gli altri si arrabbino e rovescino i pochi governano male dunque l'aristocrazia è la miglior forma di governo perché governo i buoni intelligenti sapienti e governano bene per tutto il popolo che non vuol dire tutti i ricchi ma no eh perché Bartone non è in questo un comunista tutti uguali no ma porta allo sviluppo della città dunque poiché voi siete ben governati perché dovete rovesciare Saudino Francesca Ugo Giovanni Patrick Florent governiamo bene se invece tutti noi stiamo governando facendo questi interessi ecco che Nanu comincia a incontrare Gabriele Alessandro poi dopo Serena e comincia una rivolta la rivolta dicendo no noi il popolo i poveri i meno abbienti che dicono basta voi decidiamo noi potete dice ma se vanno a decidere coloro che non sono capace a decidere perché sono animati dalla vendetta dal rancore dall'odio dalla povertà vorranno il potere per avere i soldi vorranno il potere il potere per vendicarsi degli altri dunque la democrazia uguale caos per Platone ma parliamo di 2000 e più anni fa ok e dunque per Platone la democrazia è la forma più degenerata degenerata caotica attenzione non è poi la più violenta perché c'è la quarta forma di degenerazione che può essere la più violenta probabilmente quella che Platone in alcuni momenti la democrazia è il caos Platone condanna la democrazia dunque sembrerebbe la forma di governo chiaramente più invisa Platone però c'è un'altra che in altri momenti sembra essere la più invisa e probabilmente Platone è la peggiore perché lì poi c'è la violenza arbitraria totale ed è la tirannide bravissimi la tirannide la tirannide cioè il potere di un uomo solo che con i suoi accoliti con i suoi collaboratori va bene impone con forza con violenza un ordine ingiusto allora vi rifaccio i passaggi e quindi chiudo adesso con la tirannide l'aristocrazia degenera anziché essersi migliori ci sono quelli che inseguono l'onore la gloria il successo ci siete? timocrazia ma la timocrazia passa ad essere oligarchia perché alla fine questi uomini che governano per il prestigio per il successo accumulano denaro terre palazzi e poteri dunque da aristocrazia a timocrazia da timocrazia ad oligarchia cioè dai pochi dai migliori dai pochi migliori ai pochi onorevoli ai pochi per censo ricchi egoisti a quel punto la rivolta contro i pochi ricchi egoisti democrazia caos disordine è l'abc della politica un uomo emergerà dicendo l'ordine lo rimetto io ed è il tiranno che con alcuni suoi uomini che con alcuni suoi forze che paga cui promette schiaccerà il disordine della democrazia e imporrà la tirannide la tirannide è dunque la forma di governo poi più violenta dove c'è la coercizione non di un monarca il re buono e saggio un ideale ovviamente ma un tiranno una persona cieca violenta animata da potere e dalla voglia di imporre appunto la propria volontà forma buona della repubblica l'aristocrazia dei filosofi le forme degenerate timocrazia oligarchia democrazia e tirannide sono forme degenerate della politica nelle quali forme e questo Platone lo dice con forza della bellezza di Platone non si può essere felici perché non c'è giustizia per Platone la felicità è una questione politica questa cosa che vi ho detto fa di Platone per me sempre un autore con tutte le sue donne d'ombra un autore gigante dei grandi amori della mia vita io non posso non amare Platone nel momento in cui mi dice tu a casa tua difficilmente sarai felice se c'è fuori il caos se a governare governano gli oligarchi o se c'è un tiranno la felicità passa per una città ben governata se non c'è una città ben governata giusta ci sarà violenza soppruso ingiustizia e dunque non ci sarà possibilità di essere felici